terra di conquista al delle alpi in versione bianconera dopo il genoa sfiora il colpaccio anche il bologna raggiunto nel finale dell'incontro soltanto da un calcio di rigore molto discusso la juventus di quest'anno è sicuramente in credito con la fortuna nel primo tempo la squadra di maifredi ha creato molte occasioni da rete il portiere emiliano cousin si è messo in evidenza più di una volta e quando non sono bastate le sue prodezze è stato aiutato dalla traversa qui marocchi di testa manda il pallone sui legni ma certo non basta la cattiva sorte a spiegare quest'ennesimo passo falso della juventus apparsa ancora fragile a centrocampo e vulnerabile in difesa al posto dello squalificato casiraghi maifredi ripresentava a tempo pieno schillaci l'attaccante siciliano è sembrato tonificato dalle recenti polemiche c'è voluto il miglior cousin per negare a schillaci la gioia del gol dal canto suo il bologna ben disposto in campo ha compreso subito quale poteva essere l'arma decisiva della sua partita giocando in contropiede ha messo in difficoltà l'incerta difesa juventina al trentesimo il gol di vas è un piccolo capolavoro l'attaccante tedesco si destreggia benissimo tra i difensori bianconeri infilando con un bel tiro tacconi il finale del tempo è tutto di marca rosso blu gli uomini di maifredi sono scioccati dal gol subito e per poco il bologna non raddoppia ancora con vas nel secondo tempo la juventus si ripresenta decisa raggiungere il pareggio sale in cattedra baggio che sembra ritornato sui livelli d'inizio stagione intanto valeriani ha sostituito in porta cousin infortunato anche il nuovo entrato riesce subito a mettersi in luce qui respinge un tiro di baggio al nono marocchi pesca bene di canio che si libera e tira sulla respinta di valeriani schillaci non riesce a mettere in rete poi l'attaccante siciliano reclama un rigore per questo intervento di villa i suoi danni la juventus preme l'acceleratore sospinta da baggio che semina lo scompiglio nella difesa rosso blu il fantasista della nazionale trova ancora sulla sua strada un ottimo valeriani ed è proprio baggio a reclamare il rigore al 42esimo l'arbitro bazzoli di merano facendo di proseguire appuntamento soltanto rinviato la massima punizione arriva a tempo ormai scaduto lancio lungo di esler contatto in area tra di canio e biondo per l'arbitro e rigore tra le proteste dei bolognesi l'esecuzione dal dischetto di baggio è impeccabile abbiamo malumore nel bologna per questo gol noi non abbiamo malumore ma ci mancano otto titolari poi domenica ci fanno un gol con la mano un rigore che non c'è oggi c'è un rigore il 93esimo che non so chi l'ha visto se vogliono manda giù il bologna facciano pure però Grazie a tutti.